Ragazzino di 14 anni si butta dal balcone di casa e muore. È accaduto in un quartiere della periferia di Roma nella notte tra il 7 e l'8 agosto e non sono serviti gli aiuti medici per salvare la vita del piccolo Roberto. Roberto si sentiva emarginato per le sue preferenze omosessuali e si è tolto la vita. Non ce la faceva più a reggere le battute cattive dei coetanei. L'esclusione continua, la derisione e l'impossibilità di confidarsi con i genitori. Non credeva di poter chiedere aiuto a loro. Tutti mi prendono in giro, nessuno mi capisce, non ce la faccio più. Questa è la frase lasciata da Roberto prima del folle gesto, trovato dalla polizia. Sembra che il ragazzo fosse stato recentemente emarginato dalla committiva di giovani che frequentava. Si è lanciato nel vuoto da un'altezza di 20 metri, è accertato il medico legale e morto sul corpo. Ora sulla vicenda indaga la procura di Roma che ha aperto un fascicolo contro i gnoti.